La legge di bilancio, la mancanza di dialogo con le istituzioni regionali e il PNRR. Si è parlato di questo a margine dell'ultimo Consiglio regionale della CISL Puglia che si è riunito nei giorni scorsi a Bari. Tra i temi affrontati nel corso dell'incontro, anche le vicende locali e la crisi industriale. Quando parliamo di partecipazione responsabile, significa confrontarsi sulle questioni in materia di PNRR ma di sviluppo più complessivo della stessa Puglia, di quello che è il mercato del lavoro, di quello che devono essere anche le scelte della stessa regione. E quindi su questo noi puntiamo affinché si possa ristabilire quanto prima un confronto davvero serrato ma soprattutto partecipativo, cioè di condivisione e di cooperazione ai tavoli. D'altra parte abbiamo questioni che noi solleviamo da tempo, tipo la sanità, tipo lo sviluppo industriale, sappiamo le difficoltà sulla chimica, sulla siderurgia. Abbiamo necessità di un confronto chiaro, leale, ma soprattutto partecipativo perché se noi immaginiamo di voler cambiare in bene, sicuramente ci deve essere quell'obiettivo che tutti dobbiamo remare verso la stessa parte. Per la segretaria generale aggiunta della Cisla nazionale, Daniela Fumarola, ci troviamo all'inizio di un cammino, ma la strada da percorrere resta il confronto e l'esercizio di responsabilità. Noi pensiamo che questa non sia una manovra da sciopero generale perché dobbiamo assolutamente contestualizzare la manovra all'interno delle criticità, ma soprattutto dei vincoli che la comunità europea pone. Il nuovo patto di stabilità e il piano strutturale di bilancio non dà la possibilità di fare manovre diverse. considerate che si parte già in qualche modo zavorrati dai 12-13 miliardi che devono essere restituiti appunto per riequilibrare i conti e poi il 110 che cuba 38 miliardi. E allora noi pensiamo invece che bisogna continuare a perseguire l'obiettivo del confronto. Tra l'altro la Premier Meloni nell'ultimo incontro ha dato la disponibilità e ha chiesto ai ministri presenti di convocare tavoli specifici sulle questioni che noi abbiamo chiesto di migliorare.